Il popolo rosso-nero festeggiava la matematica promozione in serie B, ottenuta grazie alla vittoria per 0-1 sul campo del Foggia con ben tre giornate da anticipo. Un campionato dominato dalla formazione rossonera che alla fine chiuderà con 72 punti totali, frutto di 21 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte. Un vero e proprio record per il girone B da quando esistono i tre punti a partita. Ma oggi non è solo o più tempo di Amarcorda, anche quest'anno c'è in ballo il più ambito dei traguardi. In panchina, nella prossima gara, non ci sarà Auteri squalificato, ma il suo vice Cassia. Gli amanti dei numeri hanno calcolato che bastano tre pareggi per blindare i play-off, ma da un Auteri pretende qualcosa di più, già a partire dal prossimo match che vedrà i molossi contrapposti al Benevento. Si spera di recuperare il luogo dei denti, Negro e Pepe, firme ai box per acciacchi vari ormai da molto tempo. Da oggi al via anche la prevendita per il derby con l'obbligo della tessera del tifoso per poter assistere alla partita. Tra i protagonisti in campo, Andrea Pintori, ex di turno, che nel 2010-2011 con la casacca giallorossa fu capace di mettere a segno un gol all'andata ed uno al ritorno nel match con i molossi, risultando decisivi per il risultato finale che finì proprio in parità. Sul fronte extrasportivo tengono banco le reazioni alla classifica provvisoria della Coppa Disciplina, noccellina penultima per la prima divisione sotto i molossi, che hanno un punteggio di 135,15 solo il Prato. I rossoneri ultimi tra i team campani.